Maglia Rosa, Garen Thomas. Garen, prima di tutto, felicità. Nel, pensi che il risultato di oggi può essere un buon presentatore per te? Pensi che possa essere un buon regalo di compleanno, visto che quest'oggi compi gli anni il risultato di oggi? Sì, per sicuro, è stato un buon giorno, è stato buono di ottenere tempo in Almeida, e non si è giocato da Primoz, ma sì, è stato un buon giorno. Hai dato che è stato? Sì, una buona giornata perché comunque ho guadagnato un po' di tempo su Almeida, non tantissimo ma può essere consigliata, comunque una buona giornata. Cosa è il plan di domani? Trecime è una scena diversa, se pensi di oggi, una scena stessa. Cosa pensi di questo? La scena di domani, quella di Trecime, sarà una scena molto più ripida, che può essere un problema, cosa ne pensi? Sì, la scena stessa stessa stessa, domani è l'ultimo, è un giorno lungo, 5.000 metri di scena, stessa stage 19, quindi è dopo una scena stessa, quindi un po' può succedere, quindi continuiamo a cercare di fare le basiche e farlo di scena per scena, e spero che sia l'ultimo. Sì, mi senti bene oggi e ho potuto rispondere a Primoz quando stessi, quindi questo è un buon signo, ma come ho detto, non sono troppo scena, solo continuiamo a fare le basiche, e vediamo in avanti. Ok, grazie molto. Noi, il giusto, il giusto è vero. Sì, il giusto è vero, con il giusto. e oggi è proprio così bene come sempre, quindi è stato un buon lavoro da loro e sono piaciuto che ho potuto finire. È stato un po' di aspettare le prossime due giorni, perché credo che non è ancora tempo per i dad jokes. È sempre tempo per i dad jokes, ma non sono venuti a tutto. C'è qualcosa che può succedere. Prima non è così bene l'altro giorno, ho fatto un po' di oggi. C'è qualcosa che può succedere, quindi continui facendo le basi e vediamo. Do you want that joke? Ha, 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 ho avuto un po' di niente, ma magari un po' di niente. Ok, grazie. Grazie. Grazie.